La geografia giudiziaria con la riapertura dei tribunali chiusi e in cima alle priorità del governo nazionale anche il sottosegretario della giustizia Francesco Paolo Sisto dopo le dichiarazioni dell'onorevole del mastro delle vedove ha garantito un nuovo atto che presto potrebbe riportare l'operatività dei tribunali strutture giudiziarie di prossimità che diventano un vero e proprio deterrente per i territori difficili come quello di Capitanata La geografia giudiziaria va certamente rivista e nei programmi di governo una riflessione approfondita ovviamente che non potrà riguardare la singola zona, il singolo tribunale ma dovrà avere un respiro di carattere nazionale Il ministro Nordio è fortemente orientato a modificare gli assetti del 2012, vedremo un pochino come intervenire nelle varie zone c'è un problema ovviamente di costi, noi siamo convinti che le regioni possano e debbano intervenire per aiutare il ministero eventualmente a sopportare ulteriori aggravi pur di garantire una giustizia di prossimità indubbio che il cittadino ha diritto di vedere una giustizia quanto più possibile vicina a casa sua, un po' come per gli ospedali non solo, ma c'è una funzione anche psicologica e di deterrente della presenza della giustizia che ovviamente rende il territorio obiettivamente più sicuro perché se c'è un presidio di giustizia anche la criminalità in qualche modo arretra e ne è condizionata Rassicurazioni dunque non solo sulla geografia giudiziaria, quelle giunte ieri sera a Foggia dall'onorevole Francesco Paolo Sisto in città a sostegno del candidato sindaco Raffaele Di Mauro ha parlato anche di un centrodestra compatto e coeso come unica via politica per voltare pagina a Foggia Siamo una coalizione coesa, una coalizione che in qualche maniera dà una buona prova di sé a Foggia abbiamo un eccellente candidato, io dico sempre un candidato che non urla ma espone le sue idee con garbo, con convinzione, con pacatezza e la forza della pacatezza delle volte è superiore a quella di ogni, come posso dire, virulenza nel fare politica Raffaele Di Mauro da questo punto di vista è un candidato fatto in modo di rassicurante farà bene e sarà capace di dare a Foggia quella stabilità e quella tranquillità che da troppo tempo mancano e sarà capace di dare a Foggia